Il male colpisce tutti, anche i più giovani, ma non bisogna avere paura. Contro il tumore servono diagnosi precoci e cure adeguate. Cancro Primo Aiuto vuole donare all'ospedale San Gerardo di Monza un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia. Un'apparecchiatura all'avanguardia che garantisce trattamenti più rapidi, mirati e meno invasivi. Ma c'è bisogno anche del tuo contributo. Dona ora il numero 45518. Contro il male, fai del bene.